Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Ragazzi, questa è una storia unica nel suo genere ed ho deciso di portarvela perché anche in questo caso siamo in Italia. Questa è la storia di una donna, prigioniera delle sue passioni, ma anche degli uomini. In particolare questa storia ha come protagonista una donna bellissima e un uomo che tutti credono il suo amante e invece il suo marito. E poi c'è un altro uomo che tutti credono sia suo marito e invece è il suo amante. Questa è la storia di Gigliola Guerinoni, nota anche come l'amantide di Cairo Montenotte. L'amantide religiosa, come saprete, è un animaletto alato che possiede un vizio bizzarro. È solito far fuori il maschio dopo l'accoppiamento ed è proprio per questo motivo che questo appellativo è finito appiccicato addosso a Gigliola Guerinoni. La donna in questione è molto bella, non ha certo pochi uomini a ronzarla attorno. Anzi, Gigliola ha la fila perché è una ragazza bionda, bellissima, con due occhi azzurri. Ma perché Gigliola è definita l'amantide? Viene anche definita la maga circe della Val Bormida. Oppure ancora la doma bionda e tutte queste definizioni gliele danno i media. Quando vengono a scoprire di un crimine di cui Gigliola è colpevole, ha fatto fuori il suo amante. Un crimine passionale dunque. Ma no, quello di Gigliola non è un semplice crimine passionale. Si discosta parecchio da tanti casi analoghi. Ora però mettiamo per un attimo la storia di Gigliola in pausa. E questa volta partiamo dalla fine di questa storia. O quasi. È un giorno d'estate del 1987. Fa caldo per le strade, anche in collina. E Orazio De Filippi, un operaio, sta guidando lungo le strade del Monte Ciuto. Una collina nella periferia di Savona. La sua utilità rincespita sul terreno sconnesso. E passa accanto ai resti di un fuoco. Orazio De Filippi si ferma e non può non notare, in mezzo a quella cenere di quel fuoco ormai estinto, un piccolo portachiavi in metallo. È annerito dalle fiamme. E su di esso è inciso chiaramente il simbolo dell'ordine dei farmacisti. Inoltre quel portachiavi è attaccato all'anello ben tre chiavi. Orazio De Filippi quindi cosa fa? Risale in macchina e guida un po' più avanti fino al ciglio di una scarpata. Esce dalla macchina, si guarda attorno e sospira. Ma c'è qualcosa che non va. Alle narici gli arriva un odore terribile, nauseabondo. Orazio inizialmente pensa che la causa sia una discarica che si trova non poco lontano. Poi però abbassa lo sguardo verso la scarpata. E nota che a metà di essa c'è un corpo arpionato ad un ramo, che per puro caso ha bloccato la sua caduta verso il basso. Orazio quindi prende coraggio e scende piano piano alla scarpata, per verificare se quello che ha visto effettivamente non se l'ha immaginato. E non è assolutamente frutto della sua fantasia. Orazio scende la scarpata, arriva vicino al corpo e capisce che no, non si è immaginato proprio niente. Orazio ci ha visto benissimo. La cosa peggiore di quel ritrovamento per Orazio però è il corpo. La sua faccia è stata colpita così tante volte da sembrare riconoscibile. E se non fosse stato per quel portachiavi, quello che aveva notato Orazio con sopra inciso l'ordine dei farmacisti, forse gli inquirenti ci avrebbero messo molto di più a scoprire l'identità della vittima. Però, grazie a quel piccolo particolare, grazie a quelle chiavi, il corpo viene identificato. Si chiama Cesare Brin, che nella Val Bormida, nell'entroterra di Savona, viene definito l'imperatore. Anche se a dirla tutta quel nome Cesare Brin non se lo sente più tanto addosso. E la gente ha smesso di definirlo tale quando la sua squadra di calcio, la Caerese, ha smesso di vincere. Per portarle in Serie C, Cesare ha davvero speso una cospicua somma di denaro, circa un migliaio di lire, mandando totalmente in fumo i suoi risparmi di una vita. Alla fine, non solo aveva dovuto vendere la farmacia di famiglia, ma anche altre proprietà immobiliari. E qui sorge una domanda. La situazione poteva andare in modo peggiore per Cesare Brin? Ebbene sì, perché a seguito di tutte quelle sconfitte, la tifoseria gli si è pure rivoltata contro. E in effetti, ormai, l'uomo ha la fama di essere un po' un'attaccabrighe. Ed inoltre, è risaputo. Ha davvero numerosi debiti. In paese si dice che forse il Brin è stato vittima di una rissa finita male. Forse per un debito. Però, qualcosa non torna. In quel crimine così efferato, così violento, c'è qualcosa che non va. Quel gesto tremendo è quasi un gesto personale. E poi, d'altro canto, non si colpisce qualcuno in quel modo per saldare un debito. La polizia appena arriva sul posto e inizia a fare delle indagini. E, nota un particolare. Sulla testa di Cesare Brin c'è un buco. E una parte di materia grigia non più grande di una noce non c'è. Non si trova. Non è da nessuna parte. Questo perché quella materia grigia si trova dove il crimine è stato commesso. E rimarrà lì per circa una settimana. È nascosto sotto una scala di legno. Che porta al primo piano di una casa situata al centro di Cairo-Montenotte, in provincia di Savona. La polizia scopre ben presto che una di quelle chiavi trovate sulla scena del crimine apre proprio la porta d'entrata di quella casa. Appena la polizia vi entra, scopre subito che le pareti sono state imbiancate da poco. C'è odore di vernice. Però la polizia, quando arriva nei pressi di un ripostiglio, non può non notare le macchie di sangue. Ebbene sì, Cesare Brin è venuto a mancare lì, in quella casa. Ma esattamente chi ci abita in quella casa? Beh, quella è la casa della gallerista del paese. Una donna di 41 anni, bellissima, bionda e dallo sguardo penetrante. Si chiama proprio Gigliola Guerinoni. Gigliola ha due passioni. L'arte, ma soprattutto gli uomini. E ben presto, più precisamente il 31 agosto del 1987, viene arrestata. Lei è l'amante del farmacista, Cesare Brin. E inoltre, nell'arco dei cinque mesi successivi, Quindi, dal primo settembre del 1987 al 18 febbraio del 1988, finiscono sotto inchiesta, ben, cinque uomini. Il primo è Ettore Geri, un uomo di 71 anni, ex di Gigliola. E poi ci sono altri quattro uomini. Raffaele Sacco, il vicequestore di Savona. Gabriele Di Nardo, un consigliere comunale missino. Apro parentesi. Per Missino, si intende un soggetto appartenente al movimento sociale italiano di destra, fondato nel secondo dopoguerra. Con lui vengono arrestati anche Giuseppe Cardea, un in bianchino, e Mario Ciccarelli, un collaboratore di Cesare Brin. Tutti vengono arrestati per occultamento di cadavere. Dovete sapere che sulla dipartita di Cesare Brin si scattina un vero e proprio putiferio mediatico. Infatti, per almeno dieci anni, tutti i quotidiani italiani si occupano della vicenda. E chiunque abbia avuto un ruolo, anche solo marginale in questa storia, si sente in diritto di intervenire e di dire la sua. E per quasi tutti, questi interventi vengono cospicuamente remunerati. E allora? Tutti a parlare di lei, di Gigliola Guerinoni. Quella donna che, con gli anni, i media, hanno definito in tanti modi. Libertina, Mantide, Dama Bionda. Ma in realtà, chi era Gigliola Guerinoni? Ci troviamo sempre a Cairo Montenotte, che è un paese alle porte di Savona. E quando nasce Gigliola, il 23 febbraio del 1945, è finalmente giunta la fine della guerra. È figlia di Abramo Guerinoni e Maria Oddera, che le danno il nome di Anna Maria, inizialmente. Ben presto, però, quel nome, Anna Maria, lo cambia in Gigliola. In geventù, Gigliola inizia a fare da assistente presso il brefotrofio, ossia un istituto che accoglie neonati illegittimi, abbandonati o ancora in pericolo di abbandono. Si distingue dall'orfanatrofio, oggi casa-famiglia, perché quella è una struttura che accoglie ed educa bambini orfani, minori abbandonati o maltrattati dai genitori, non neonati, a differenza del brefotrofio. Dopodiché Gigliola va a fare l'infermiera a Savona e arrivata ai suoi 19 anni, sposa un uomo, Pietro Barillani, da cui ha due figli, Alex e Fabio. Il punto è che a Gigliola la vita coniugale non la soddisfa. Di fatto è e sarà sempre una madre premurosa, però l'affetto dei figli e del marito non le basta. Gigliola non è una donna che si accontenta, vuole di più, vuole qualcos'altro. E, per raggiungere i suoi scopi, usa la sua bellezza. In effetti, Gigliola fin da piccola si rende conto come la guardano gli uomini. Quegli sguardi, quando era piccola, la mettevano in imbarazzo. E Gigliola non faceva nient'altro che abbassare gli occhi imbarazzata. Però arriva un giorno, un giorno in cui Gigliola quegli occhi non li abbassa più. E si rende conto che, piano piano, quegli sguardi non la mettono affatto in imbarazzo. Anzi, Gigliola capisce che gli uomini benestanti sono porte di accesso per altre vite, altre opportunità. E quindi, ovvio, il tradimento è inevitabile. Pare che, in realtà, il primo tradimento di Gigliola sia avvenuto con il primario della clinica per cui lavora. Anche lui è un messino. E Gigliola lo chiama per cognome il dottor Ballerga. Lei ha 24 anni e lui 48. Gigliola si trova nel suo studio in quanto deve fare degli esami. Ma gli esami quel giorno non saranno fatti assolutamente, perché Gigliola, il medico, fanno le cose biricchine. Il primo amante di Gigliola, però, viene a mancare pochi mesi dopo in un incidente d'auto. E non molti mesi più tardi, Gigliola incontra un altro uomo, Ettore Geri. Anche lui, più grande di lei di ben 27 anni. Ettore nella vita non si può di certo descrivere come un uomo di successo, ma ha un buon carattere e per di più ama la pittura. Ed è proprio per questo che Gigliola e lui non trova solo un uomo con cui fare le cose biricchine, ma ha anche un compagno, qualcuno con cui condividere le sue passioni. Un giorno Gigliola gli fa una confessione, gli racconta il suo sogno più grande. Aprire una galleria d'arte a Cairo, a Montenotte, il suo paese di nascita. Ettore è profondamente innamorata di Gigliola, quindi le dà un'opportunità. Lascia la moglie, laureato via con sua figlia Giovanna, lascia il lavoro e con i soldi della liquidazione, nel 1973 apre proprio una galleria d'arte per Gigliola, a Cairo, a Montenotte per l'appunto. La galleria si trova al centro del paese, è un bel edificio, ha due piani. A pieno terra ci sono gli spazi espositivi, mentre al piano di sopra c'è un appartamento molto luminoso, ed è lì che vivono Ettore e Gigliola. Siamo più o meno a metà degli anni 70 e finalmente per la galleria arriva il giorno dell'inaugurazione. Quella sera a quell'inaugurazione ci sono chiaramente dei personaggi chiave per la nostra storia. Il primo è Raffaele Sacco, il vicequestore di Savona, col quale peraltro Gigliola ha avuto una breve relazione. L'uomo vanta origini aristocratiche e il suo abbigliamento eccentrico rende palese il fatto che voglia distinguersi dalla gente comune. Sta chiacchierando del più e del meno, probabilmente vantandosi di qualche sua conoscenza. Ad ascoltarlo c'è sicuramente Giuseppe Cardena, che usano chiamare Chechè perché tartaglia, e Gabriele Di Nardo, anche lui Missino. Gigliola flirta con loro e viene notata da Ettore, sicuramente. Però l'uomo non dice nulla e si arriva ben presso dall'inaugurazione, risalendo a casa da solo. Aveva avuto modo di rendersi conto che la relazione con Gigliola non era propriamente esclusiva. Quelli, per Gigliola, sono anni felici. Ha una bella posizione e in effetti inizia a frequentare circoli che prima ne erano preclusi. Poi arriva il 2 dicembre del 1974 e Gigliola mette al mondo una figlia, Soraya. Quando nasce la bambina, Gigliola ha un nuovo moto di ribellione. Perché lei non vuole stare incastrata in una vita familiare con il solo e unico ruolo di madre. Solo quell'idea terrorizza Gigliola. Arriva poi una sera del febbraio 1975 e Gigliola lo dice chiaro e tondo ad Ettore. Lei si considera ancora una donna libera e per sottolineare la cosa decide anche di abbandonare il letto con cui dorme col compagno per trasferirsi in un'altra stanza. Ettore a quel punto lo capisce. Gigliola non vuole essere imbrigliata e da quel momento in poi si accontenterà di prendere quello che può avere. Damante quindi diventa complice di Gigliola e quando non potrà neanche più essere suo complice inizierà a rilegarsi totalmente nel ruolo di padre. Tanto che anche Gigliola inizia a chiamarlo papà. E stiamo parlando della donna con cui ha messo al mondo una figlia. Poi però arriva una sera ed Ettore, rimasto solo nella sua stanza, si alza. Si dirige verso il comodino, apre il primo cassetto e prende una scatola. Nella scatola c'è un pendolino di cristallo e delle candele nere. E poi ci sono numerose fotografie, tutte raffiguranti uomini. Però quei ritratti hanno qualcosa che non va. Sono grotteschi e inquietanti. Questo perché hanno gli occhi anneriti da delle bruciature di sigarette. Ma in queste foto si possono tranquillamente identificare i volti di Raffaele Sacco, di Gabriele Di Nardo e di tanti tanti altri. Quella è la lista di tutti gli uomini che Gigliola ha avuto. Per chi non l'avesse compreso, quella scatola di Ettore contiene tutto ciò che serve per fare fatture, mandare il malocchio insomma. Ed Ettore Geri, mentre accende una candela iniziando a fare chissà che maleficio, sussurra. Qui c'hai costretto tu, Gigliola. Proprio tu. Ma col tempo, la collezione di fotografie inquietanti di Ettore si arricchisce di un nuovo pezzo. Non è neanche passato un mese dal trasferimento di Gigliola di camera. E ben presto, piamba in casa un altro uomo, Pino Agustini. Un geometra e un discreto pittore di provincia. Con, peraltro, un gran gusto per l'arredamento. Pino è un uomo savonese e ha iniziato da poco a frequentare la galleria di Gigliola. È sposato con Fiametta Martini, ma anche lui non ci mette molto. A lasciare la moglie per andare a vivere con Gigliola, Ettore e la figlia. In quanto, in brevissimo tempo, tra lui e Gigliola scoppia un'intesa incredibile. Ettore borbotta per la scelta e finalmente si dimostra geloso. Ma Gigliola lo rabbonisce immediatamente dicendogli, è diabetico. Anche volendo, non riuscirebbe a fare le cose birichine. Ed è proprio in questo modo che inizia questa folle convivenza. Se non fosse che, Gigliola, Pino Agustini, lo sposa nel 1979 in gran segreto. Di conseguenza, Pino Agustini è diventato suo marito, mentre Ettore è diventato il suo amante, nonostante ci abbia avuto insieme una figlia. Ma, nonostante la situazione un po' strana e ambigua, passano dieci anni. E in questi anni, Gigliola pare abbia trovato la pace, il suo posto felice, la sua vita va bene e funziona in quel modo. Seppur assurdo e per certi versi scandaloso. Anche se, alla fine, quella strana relazione viene addirittura accettata a Cairo Montenotte, in paese. Fino a quando non arriva un giorno. È l'11 dicembre del 1986 e Pino viene a mancare a causa del diabete. Ha solo i 52 anni. Quella sera, Gigliola, non si vede. Non torna a casa e nessuno riesce a trovarla. Ettore e la figlia Soraya sono preoccupatissimi. Mentre in paese qualche voce maligna sussurra che si starà già consolando in compagnia di qualcun altro, Gigliola. Ma la realtà è molto diversa, in quanto in un cimitero lì vicino si può sentire un pianto disperato. Il pianto di una donna. È Gigliola che piange disperata nella camera mortuaria, sulla barra di Pino Agustini. Questa cosa la possiamo sapere perché è il custodio del cimitero. Ritrova Gigliola quasi assiderata sulla barra di Pino. Ed è in questo caso che in paese scoppia lo scandalo. Perché tutti erano convinti che Gigliola fosse sposata con Ettore. E che Pino fosse il suo amante. Ma è esattamente il contrario. Gigliola ha deciso di tumulare Pino nel cimitero dei Porri, sull'altura di Dego. Ma dopo la dipartita di Pino, a rimetterci, non è solo Gigliola. Ettore è l'uomo che per dieci anni è riuscito a mantenere quell'equilibrio. E quel compromesso per stare a fianco alla madre di sua figlia. È proprio questo squilibrio che fa cambiare Gigliola. Che torna ad avere la brama di voler accanto qualcun altro. Gigliola ora vive questo bisogno con prepotenza. Anche a seguito della dipartita di Pino. Quindi potremmo definirla anche più libertina di quanto non lo fosse prima. Gigliola cerca di colmare un vuoto. Quel vuoto che però non riesce a colmare con nessuno. Ed è in questo modo che Cesare Brin, la vittima della nostra storia, entra in gioco. Cesare Brin entra nella vita di Gigliola. E per lei si apre una nuova porta. Una nuova opportunità. In quanto, quando Gigliola aveva conosciuto Pino, nel 1975 circa, l'Italia stava vivendo le lotte per aie, gli anni di piombo. Ma nel 1987, dopo la dipartita di Pino, nulla è come prima. In Italia è arrivata l'epoca dell'eccesso, della ricchezza facile. Ciò che più conta è apparire. Cosa indossi? E lo che hai. Ed è proprio in questo periodo che Gigliola conosce Cesare Brin. Lo vede spesso in paese, Gigliola, Cesare, perché la sua farmacia è vicina alla sua galleria d'arte. C'è da dire che all'inizio ci sono solo degli scambi formali. Però oramai Gigliola sa distinguere gli sguardi degli uomini. E sa benissimo che dagli sguardi che Cesare gli rivolge, quegli scambi formali potrebbero diventare molto, ma molto di più. Pino è venuto a mancare da poco. Ettore non riesce assolutamente a trattenere la gioia per questo avvenimento. Ma Gigliola sta male. Per la donna la vita non è mai stata tanto insopportabile. E la paura di iniziare a vivere quella vita, quella che la riserva al solo ruolo di madre, torna a perseguitarla. E forse è proprio per questo motivo che Gigliola, all'ennesima richiesta di bere qualcosa di Cesare Brin, accetta. Non passano molti giorni quindi che nel paese già gira la notizia. Gigliola ha un altro amante. Il punto è che Cesare Brin, nonostante sia sposato anche lui e con figli, non è assolutamente nuovo ai tradimenti. Tanto che sua moglie, ormai stanca, ha preso armi e bagagli da tempo trasferendosi a Rapallo, in Liguria, e aprende un'erboristeria. Del marito, successivamente, dirà. Era un credulone, un ingenuo, uno vanitoso. Gli piaceva stare al centro dell'attenzione, quella donna là, Gigliola. Forse lo conquistò così, fu l'unica persona che lo fece sentire ancora qualcuno, mentre tutti lo consideravano una nullità. Cesare quindi con le donne ha un suo modus operandi, è generoso, ama pavoneggiarsi e quindi inizialmente a Gigliola fa un sacco di regali. La riempie di fiori e per qualche mese le paga addirittura l'affitto della galleria. Ma in poco tempo, i problemi economici di Cesare vengono a galla. I suoi investimenti sono andati totalmente in fumo. E inoltre, la sua squadra ha solo debiti. Nessuno lo tratta più come un tempo, da nessuno è più definito l'imperatore. E Gigliola, al posto di trovarsi un uomo, si ritrova a prendersi cura di un uomo che però tende a fare capricci da ragazzino. E per di più, è rimasto senza una lira in tasca. Però c'è da dire che in principio a Gigliola va bene così, perché occuparsi di una persona bisognosa d'affetto la distrae dal suo dolore. Quel dolore che ancora la perseguita per la perdita del suo amato Pino. Però a quel tempo Cesare si fa sempre più ingombrante, le sue richieste sono sempre più pressanti. Inizialmente si tratta di vendere dei mobili antichi nella galleria di Gigliola, ma non c'è neanche l'ombra di un cliente interessato. Niente di niente. Allora Cesare le fa un'altra proposta. Le chiede se può trasferirsi da lei, nella stessa casa in cui, di nuovo, c'è... Sa Ettore che è sua figlia. Ettore però in questo caso non la prende assolutamente bene e fa una scelta. Prende la figlia, Soraya, e decide di trasferirsi altrove, lasciando Gigliola con Cesare. Se ricordate però Ettore ha giusto qualche interesse per fare i malocchietti e le fatture. E quindi, una sera, chiuso nella sua stanza della sua nuova casa, prende di nuovo quelle candele nere e brucia una foto di Cesare Brin. Sussurrando qualcosa di incomprensibile. E Soraya, la figlia che per l'appunto abita con lui, dallo stipide della porta, vede la scena. E non riesce assolutamente a togliere lo sguardo da quella fiamma. Quella fiamma che sta bruciando una fotografia che raffigura Cesare Brin. Ettore però non sa che le sorprese non sono finite lì. Infatti, ben presto, Gigliola rimane incinta. Sicuramente Cesare Brin fa già progetti, immaginando la loro fantastica vita assieme. Ma quel bambino non nascerà mai perché purtroppo Gigliola ha un aborto spontaneo in casa. Cesare Brin quindi è totalmente sconvolto e onestamente fa una cosa che ha sconvolto me. Scende di casa, va in tutta fretta nella sua farmacia, prende un barattolo e lo riempie di formalina. Poi ci immerge dentro il feto e lo tiene in uno scaffale chiuso nell'armadio. Perché in questo modo Cesare Brin, la famiglia che voleva, l'ha ottenuta davvero. In un modo totalmente folle, però l'ha ottenuta. Insomma, io direi che è tutto alquanto inquietante. Cioè, anche pensandoci un minimo razionalmente, ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere? Ma sta vicino alla tua compagna, no? Io non capisco, davvero. Non capisco. Passa però nel tempo e Gigliola, Cesare, inizia a non sopportarlo più. Cesare Brin si è piazzato al centro della sua vita e per di più ha pur iniziato ad essere geloso. Un giorno, infatti, Cesare è a casa che aspetta Gigliola. È furibondo. Stringe tra le mani un quadernino pieno di cifre scritte a matita. Appena Gigliola entra in casa, Cesare inizia immediatamente a chiederle Dove sei stata? La donna dice a Cesare che è stata fuori a fare spese. Ma Cesare le fa vedere il quadernino che tiene in mano. Quello con i numeri appuntati in matita. Quelle sono le letture del contachilometri della macchina di Gigliola. E lo dimostrano chiaramente. È andata fuori città. È andata a trovare Ettore. Cesare quindi chiede al sospettoso Che ci vai a fare? A questo punto, Gigliola è davvero incazzata. E risponde a Cesare Ettore Geri è il padre di mia figlia E anche se fosse io il diritto di fare tutto quello che mi va Poi gira i tacchi E abbandona la stanza Gigliola E giusto il giorno dopo Fa togliere dalla macchina il contachilometri Perché Gigliola non è andata a trovare Ettore Geri È andata a Pietraligure Da un altro ennesimo amante Ora però Arriviamo al colmine della situazione Siamo nel pieno dell'estate del 1987 E gli affari di Cesare Brin non sono andati in porto Ma neanche mezzo eh E quindi è totalmente sull'astrico Gigliola ormai di Cesare Brin non ne vuole più sapere niente Si è decisamente stancata di stargli dietro Di stargli dietro ai suoi capricci Alle sue gelosie Non lo sopporta più Arriviamo quindi a una sera È il 12 agosto del 1987 Pierina, una donna che abita lì vicino Sta tornando a casa con il suo cagnolino E quando arriva davanti al portone di casa Il cucciolo con uno strattone Fugge via Ma viene ripreso da una coppia Che lo riporta immediatamente alla proprietaria Lui si chiama Sergio E lei si chiama Isabella Sergio e Isabella quindi i due fidanzati Hanno appena riconsegnato il cagnolino a Pierina Quando sentono dall'appartamento di Gigliola Dei chiari rumori davvero strani Ci sono delle voci Voci coincitate Forse sono voci di due persone che litigano Sergio sente chiaramente un rumore di vetri infranti Mentre Isabella sente la voce di un uomo che urla Ti faccio fuori La voce di una donna poco dopo si mette in mezzo Dicendo Stai zitto che ci sentono Sergio e Isabella a quel punto non sanno cosa fare Non sanno se è il caso di chiamare i carabinieri E Pierina che tranquillamente ha confidenza con Gigliola Urla il suo nome E infatti una donna appare da dietro la tenda E i rumori si placano Pierina così dice Ma no non è niente Andiamo tutti a dormire Ore dopo la macchina di Gigliola esce dal garage C'è il corpo di uccidere In macchina è presente Gigliola L'imbianchino Giuseppe Cardea E Raffaele Sacco Il vicequestore di Savona Addirittura questi genioni si fermano ad un distributore di benzina Perché avevano bisogno di fare il pieno E vengono visti anche da dei testimoni Della serie Devi andare a nascondere un corpo e non ti preoccupi Prima di fare benzina alla macchina Vabbè Vai a far benzina con il corpo in macchina Vabbè vabbè In ogni caso Gigliola, Giuseppe e Raffaele guidano Fino alla scarpata del Montecciuto Bruciano i vestiti di Cesare Dimenticandosi però delle chiavi E buttano giù da una scarpata il suo corpo Quello che vi ho appena detto È sicuro perché è stato accertato dalla polizia Ma questa non è la versione di Gigliola E quindi lei Come la descrive quella notte? Gigliola sostiene che a casa sua si sono presentati Due amici di Cesare Brin sono saliti E hanno parlato con lui Hanno preteso il pagamento di un debito Per una questione di sostanze malandrine Così dice Gigliola Lei sostiene di non ricordarsi esattamente Quella conversazione Perché era in cucina Semi nascosta a preparare il caffè Ricorda che Cesare Brin ha tentato di calmare Coloro con cui aveva un debito Ma la situazione è precipitata Uno dei due tizi Prende un posaccinere e lo scaglia in testa a Cesare Brin Lo prendono, lo caricano in macchina di Gigliola Non si sa per quale motivo E poi partono Semplicemente si allontanano Gigliola sostiene che quella è l'ultima volta che ha visto Cesare Brin Però sostiene anche che la mattina dopo La sua auto, magicamente, è ricomparsa da sola in garage E a quel punto per Gigliola non resta che chiamare Giuseppe Cardena L'inbianchino Per sistemare tutto quel macello E nascondere le tracce Il sangue è addirittura sulle pareti Ed è un problema La storia raccontata da Gigliola però è talmente poco plausibile Che inizialmente si presume addirittura che stia coprendo qualcuno Forse qualcuno ha commesso il crimine e lei sta tentando di proteggerlo Ma che diamine sarebbe? Forse Ettore Geri? Beh, se parliamo di Ettore Geri Dobbiamo parlare anche della sua dichiarazione Che presenta delle nette differenze rispetto a quella di Gigliola Torniamo quindi alla nota del 12 agosto E riviviamo la stessa scena dal punto di vista di Ettore È circa mezz'anotte passata Ettore è nella sua casa fuori città dove vive con sua figlia Il telefono squilla Ettore risponde Dall'altro capo del telefono parla Gigliola La quale gli dice che non si sente bene Che ha un forte mal di testa E ha bisogno delle medicine immediatamente Ettore quindi sale in macchina E con sua figlia Soraya Va da Gigliola Ettore e Soraya quindi arrivano nei pressi dei portici di Cairo a Montenotte Ettore parcheggia la macchina E dice alla figlia di aspettarlo in macchina Mentre lui sale e dà le medicine a Gigliola Ettore quindi fa per salire E nota che la porta d'entrata dell'appartamento è socchiusa Quindi entra Nota da una parte Gigliola che si sta lavando Va poco più avanti E vede Cesare Brin in camera Che si sta rivestendo Ettore di conseguenza si incazza come una iena E inizia a pensare Ma perché mi ha chiamato? Non ci vede più dalla collera Quindi cosa fa Ettore? Prende una bottiglia Urla ti faccio fuori E poi La dà in testa a Cesare Che cade al suolo Gigliola a quel punto dice E' andato? Ma Ettore è spaventato E quindi risponde con una voce Un po' cuta Non ne ho idea! Gigliola aggiunge immediatamente Zitto! Che ci sentono! Questo dirà per la prima volta Ettore e Geri Per poi però ripensarci E rimangiarselo Non era andata così Proprio no Cesare Brin Quando lui era arrivato Era già senza vita La verità però è che c'è un altro testimone Che assiste ai fatti E' una ragazzina Solo 12 anni Ed è la figlia Di Gigliola e Ettore Soraya Soraya Quella sera Se la ricorda bene E quindi successivamente Confida questo Non mi va di dire Quanto mio padre Mi ha confidato in macchina Ma posso dire Che era molto arrabbiato Siamo arrivati sotto casa Di Gigliola E siamo entrati in garage Mio padre mi ha chiesto Di aspettare lì Mentre lui Se vive in casa Dopo un po' Mi sono annoiata E quindi sono uscita dalla macchina Ho fatto un giro nel garage E quindi Ancora più annoiata Ed attirata da alcuni rumori Sono salita al piano di sopra In casa Soraya sostiene Che i rumori che ha sentito Sono tranquillamente compatibili A rumori di vetri Che si frantumano Soraya continua Sono salita in casa E mi sono fermata Ci ho pensato A quel punto Temevo per la vita di mio padre Quindi sono scesa nuovamente in garage Per cercare un'arma E l'ho trovata Un martello Sono poi risalita in casa E sul letto C'era Cesare Brin E stava già sanguinando Soraya per essere ancora più chiara In un secondo interrogatorio Aggiunge Quando sono entrata Ho sentito mia madre Urlare Devi sparire Non so però Chi abbia usato Il martello Per colpire Cesare E in un ennesimo interrogatorio Il terzo Aggiunge Quando siamo arrivati A Cairo Montenotte Ci è venuta incontro Mia madre Dicendo a mio padre Te la senti di far fuori il Brin? Soraya dice I miei genitori Si erano già accordati in luglio Quando mia madre Avesse telefonato Lamentando un mal di testa Significava che sarebbe Giunto il momento Di sistemare il Brin Ettore e suo padre Però dirà Che sono tutte fanfaronate Sono solo fantasie Di una ragazzina Però Alla fine dei tre gradi Di giudizio Se è Gigliola Che è Ettore Vengono condannati Però ragazzi Riflettiamoci Se quella notte Ettore e Gigliola Fossero stati d'accordo Per togliere di mezzo Cesare Si sarebbero portati Dietro la figlia Un po' poco probabile Gigliola Il 17 dicembre Del 1991 È condannata In via definitiva A 21 anni e 6 mesi E con lei Tutti gli altri Ettore Geri Raffaele Sacco Il vicequestore di Savona Gabriele Di Nardo Il processo È pieno di colpe di scena E tocca davvero apici Da spettacolo televisivo Soprattutto quando Gigliola Sostiene di aver avuto Una relazione Con il giudice istruttore Cosa falsa ovviamente E infatti Gigliola Si becca pure Una condanna per calunnia Gigliola Durante il processo Scrive Scrive a giornali Scrive a riviste E si fa intervistare Da parecchie trasmissioni televisive Di lei In un modo o nell'altro Scoperto che se ne parla Scoperto per anni Perché Gigliola Forse è un simbolo E un pochino Non tanto Solo un pochino Ci rappresenta Ci racconta la storia di Gigliola Che il prezzo che paghi È caro Quando la tua voglia di libertà Non può essere incastrata Nella vita che stai vivendo Ma come va avanti questa storia? Beh Gigliola viene condenata A 26 anni di carcere Per l'omicidio di Cesare Brin Mentre Ettore Geri Si becca a 15 anni Perché in teoria Avrebbe aiutato Gigliola A ripulire la scena del crimine Ossia La casa di Gigliola Pensate che una volta saldata La sua pena Ettore Prende casa Proprio vicino al carcere In cui sta Gigliola Per starle vicino E alla fine Emerge la realtà In realtà Sono quattro persone Le persone che hanno occultato Il corpo di Cesare Ossia Raffaele Sacco Gabriele Di Nardo L'immianchino Giuseppe Cardea E infine c'è anche un certo Marco Ricciarelli Il socio di Cesare Brin Gigliola durante la sua detenzione Viene spostata prima di Imperia Poi finisce ad opera In Lombardia E infine Va al carcere di Re Bibbia A Roma Negli ultimi tempi della sua detenzione È stata una detenuta In regime di semilibertà E durante questi periodi Gigliola frequenta Un istituto di suore Nel centro di Roma Chiamato Istituto delle Steve di Maria Gigliola cammina per Roma Veste da nuizia Ma non dice a nessuno Se vuole o meno Prendere i voti Arriva il 12 marzo del 2014 I giornali annunciano La scarcerazione Di Gigliola Per aver scontato La condanna A 26 anni di carcere Nel 2015 A 97 anni Viene a mancare Ettore Egeri Per quanto sia riuscito a scoprire Gigliola Guerinoni Scarcerata a 69 anni Conduce una vita in silenzio Vuole essere lasciata in pace Anche se dalla sua storia Ne è stato tratto un film Con Monica Gurritore Nel 1989 Oggi Con lei che ammagliava Gli uomini stregandoli Con i suoi incredibili occhi azzurri È una suora laica E sta al convento di Santa Maria A Roma Quando i giornalisti Provano a fermarla Lei ripete sempre la stessa cosa Ossia Non fate più il mio nome In questi anni Sono state dette Troppe bugie Troppe falsità La figlia di Gigliola Invece Soraya È rimasta a Savona E ha aperto un negozio Di abbigliamento femminile Detto questo ragazzi Questa era la storia Di Gigliola Guerinoni Una donna secondo me Molto molto particolare Fatemi sapere voi qui sotto Cosa ne pensate Della storia di Gigliola Noi ci vediamo Prestissimo al prossimo video E vi mando Un bacione Mi raccomando Fate i bravi Mangiate sempre le verdure Ma soprattutto Ricordate che l'occhio critico E osserva Grazie a tutti